ciao bilancia benvenuta andiamo a vedere un po le mie carte che cosa vogliono raccontarti di cosa di chi più che altro vogliono vogliono parlarti questo video non darò tempi a questo video quindi avrà validità dal momento in cui tu lo vedrai ok io voglio partire dalle mie carte questi sono i messaggi di lui e lei è un mazzo di carte che chi mi segue da più tempo ormai lo sa che ho creato io come vedi dal mio timbro se sei interessato interessata ad avere queste carte trovi tutte le informazioni giù nella descrizione di questo video oppure le puoi chiedere a me direttamente scrivendomi una mail a le carte di penelope chiocciola gmail.com va bene partiamo subito e vediamo un po dove mi mandano dove mi portano le carte vediamo per il segno zodiacale bilancia per il segno zodiacale della bilancia ecco io ne volevo una e qui ce ne hanno buttate tre mi hai ferito mi hai ferito non mi capisci non mi capisci non mi capisci sono ancora innamorato o innamorata di te eccola la e qui è qui casca l'asino quindi qui bambine qui o bambini o ragazzi qui dovete essere voi a dire guarda nel taglio ormai l'ho visto non ho mai amato nessuno come ho amato te wow e con questa t'ha steso allora qui c'è o siete voi quindi o siete voi bilancia che nutrite che sentite che pensate queste cose o è l'altra persona questo nessuno meglio di voi può può saperlo se tu le pensi te eccola e se no è l'altra è l'altra persona persona che può essere un compagno una compagna insomma una persona che ti interessa ma può essere anche un familiare è un amico un'amica un fratello una sorella capito qui si parla di un'altra persona ovviamente qui ci parlano sono in me in evo abili sono ancora innamorato di te ma insomma voglio dire ecco quindi qui ci portano ora interroghiamo ovviamente tutte le carte qui ci portano verso una persona che qualcosa fa combinato qui mi hai ferito è chiaro che qualcosa ti ha combinato che però te tu hai ancora c'è poco da fare guarda la non ho mai amato nessuno come ho amato se quindi senz'altro una persona molto 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 importante per te per la sua vita di cui sei ancora innamorato o innamorata va bene quindi io credo parlando di te che qui si parli si parli di te ma non escludo che sia l'altra persona a pensare queste cose ma lo capiremo strada facendo allora andiamo a vedere per il segno della bilancia cosa avete da dire vediamo un po per la bilancia che abbiamo ancora queste carte e poi andiamo ovviamente ai ai tarocchi ok qui non ci si sente capiti non ci si sente mettiamola così o te o l'altra persona io parlerò di una persona va bene quindi qui questa persona è ancora innamorata che tu sia te o l'altra persona te lo ripeto a qui c'è una ferita quindi qui qualcuno è stato ferito dal comportamento dell'altra persona e più che altro non si sente capito vedi non mi capisci non ci si sente capiti dall'altra dall'altra persona quindi qui c'è anche un'incomprensione di fondo capito allora per la bilancia cosa volete dire per la bilancia vediamo per il segno zodiacale della bilancia vediamo un po sta situation ne sono volate due qui qui c'è il serpente e la macchina fotografica allora qui qualcuno senz'altro è scappato si è allontanato si è allontanato anche per orgoglio se vuoi è anche per orgoglio guarda io credo che qui ci potrebbe essere stato non voglio dire proprio non voglio dire proprio un tradimento anzi arriverò a dirti che magari potevate essere voi l'amante di questo uomo o di questa donna cioè qui mi fanno vedere una specie di competizione ok di competizione che c'è che c'è stata quindi qui insomma effettivamente qui mi hai ferito ora andiamo ad ampliare ovviamente io credo che qui che qui ci sia stato ci sia un'altra persona da un'altra parte in tutto questo in tutto questo ambarada e che tu sembrerebbe che tu ne sia rimasto o rimasta ferito ecco dall'atteggiamento tenuto non ci si sente capiti però qui c'è ancora il cuore c'è po da fare qui è già successo un qualche cosa qui mi parlano del passato quindi qui qualcosa è già accaduto vediamo i tarocchi allora andiamo a vedere il segno zodiacale della bilancia vediamo un po di che cosa ci parlano perché qui la bilancia c'è ancora al cuore a questa persona sicuramente sono ancora innamorato di te vediamo per il segno zodiacale della bilancia ok lasso di coppe inequivocabile eccola la qui c'è ancora l'amore ragazze ragazze o ragazzi qui c'è ancora l'amore c'è ancora la nostalgia potrebbe essere semplicemente una pausa e con questa persona magari perché abbiamo litigato non ci si sente capiti e ci sentiamo feriti quindi semplicemente un litigio un litigio però c'è ancora il pensiero a questa c'è ancora il pensiero a questa persona c'è il sentimento cioè l'asso di coppe proprio mi mi conferma questa come si dice questo sentimento ancora ancora vivo verso questa persona andiamo a vedere io qui sembrerebbe si tratti di una pausa non di una fine poi tu mi dirà nei commenti si è bilancia per la bilancia ok l'imperatore l'imperatore per il segno zodiacale della bilancia ok guarda no via imperatore regina di coppe queste sono due persone vedi è proprio la coppia con l'asso di coppe accanto quindi qui io si confermo è una qualche novità una qualche novità c'è qui vedo proprio l'amore qui c'è proprio l'amore forte e chiaro andiamo a vedere vediamo ancora per la bilancia che cosa ti vogliono far arrivare le carte allora per il segno zodiacale della bilancia il 4 di bastoni segno zodiacale della bilancia vedi vedi la giustizia e nel taglio c'era c'è sì sì il 5 di spade sì sì guarda allora ma perché non si chiappano ora le devo prendere faccio l'orecchio eccola la qui c'è stata una ferita una ferita un qualcosa un'omiliazione un qualcosa è veramente t'ha fatto o l'altro ha fatto sta male l'altra persona o entrambi è per l'amor di dio ora io parlo del leone e detto sa benissimo di chi si sta parlando tu l'avrà capito da queste carte ora vedremo anche chiederemo anche un pochino i i segni zodiacali vedi qui c'è stata una ferdico c'è stata perché vedo il passato non ci si sente capiti quindi magari ci potrebbe essere stato un misunderstanding capito magari non ci siamo capiti abbiamo litigato però qui il sentimento c'è il lasso di coppia e poi fanno vedere questa coppia qui senz'altro si parla di una coppia come posso dire a lungo termine insomma è un nome un po' inappropriato ma insomma per farvi capire capito quindi una coppia stabile una coppia a lungo termine una coppia rodata ecco rodata qui l'amore c'è sono ancora innamorato o innamorata e non ho mai amato nessuno come amato se quindi qui tu mi capisci ecco ora che cosa voglio dire io ti dico che questa persona sicuramente si rifarà viva qui c'è un chiarirsi c'è un sistemare le cose c'è un cercare un compromesso c'è un riequilibrare tutta la situazione qui ci si manca qui ci si manca inutile insomma raccontati le barzellette qui una mancanza una mancanza c'è ora io credo che sia sia che tu sia l'uomo sia che tu sia la donna bilancia che tu mi sta ascoltando diciamo che qui vedo più probabile che sia l'uomo l'uomo che si faccia sentire in questa situazione capito vedo più la donna ricevere questo messaggio felice per l'amor di dio come non mai eccetera capito quindi qui ci si può ci si può chiarire eccetera quindi qui c'è proprio un invito un invito e un'uscita uscita che potrebbe non essere subito un'uscita a due quindi magari boh magari ci si vede in un locale si va da qualche parte per un pranzo una scena e via andare insomma poi tu me lo dirai ma questi sono dettagli non ce ne interessa l'importante che si risolva tutto il discorso e io credo che qui si risolva quindi che qui si stia parlando di una situazione semplicemente in pausa pausa dovuta ad un litigio qui c'è stato allora io non so se è stato l'uomo la donna però qui c'è stato un litigio comunque qui ci sono state delle parole delle parole dette che sono state una coltella e cuore proprio t'hanno strafitto il cuore sicuramente effettivamente mi hai mi hai ferito ma io credo che qui la cosa non credo lo penso che qui la cosa si si risolva capito non credo sia una chiusura definitiva no qui siamo troppo innamorati per essere definitiva andiamo a vedere un pochino anche i segni zodiacali e poi tu mi farà sapere va bene bilancia vediamo quali segni zodiacali vedete coinvolti in queste vicende per la bilancia andiamo a vedere che sono state delle parole brutte brutte allora segno zodiacale del toro toro vergine il cancro toro vergine cancro cos'altro segno della bilancia bilancia riconfermata capricorno i segni zodiacali per la bilancia questo no non è niente cos'altro il leone poi mi fate sapere nei commenti chi è che va ferito così tanto è che qui c'è anche un pochino d'umiliazione qui siamo stati umiliati in un qualche modo che sia parole che si allora il leone viene subito confermato vediamo cos'altro poi le chiudo allora i gemelli gli avevamo meno gli aggiungiamo adesso i gemelli i pesci lo scorpione e l'acquario l'avevamo visto vero no allora l'aggiungiamo adesso anche anche l'acqua capito fammi sapere che cosa che cosa fa combinato insomma questa questa persona ma è che nonostante tutto insomma tu porti ancora nel cuore qui mi pare evidente comunque qui ci sono novità da questa persona e quando meno se l'aspetti capito quindi fammi sapere mi raccomando io ti aspetto qui ovviamente sempre al mio prossimo video ok ciao bilancia eccoci qua vi lascio ai miei vi no eccoci qua